non c'è bisogno di fare tanto casino qui non è successo niente più fai veloce meno farà assumo le posizioni designate ma qui non è successo niente hai un problema da risolvere? la fortuna ti ha abbandonato ora te la vedrai con me assumo le posizioni designate so that's a standing by finally am i up? why not qui non è successo niente più fai veloce meno farà male yes questo ti farà tacere so that's our target? standing by le tue ultime parole? non mi interessano comunque engaging finally am i up? i want you to listen very le tue ultime parole? non mi interessano comunque standing by ma i want you to take i want you to run i want you to die i want you to run i want you to run i want you to take Le tue ultime parole non mi interessano comunque. Engaging. Perché non è successo? Engaging. Hai un problema da risolvere? No, 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 no. So that's how that all is gone. Obiettivo a vista ci vorrà solo un minuto. Take victory as a whetstone to hone the cutting edge. Ciao. Grazie per la visione!